Si prepara Filomena, Filomena Pucci dove sei? Ok, fantastico, vieni Filomena che ci parlerà di come ha trasformato la sua passione in un lavoro e prima o poi beccherò anche il tempo dello stacchetto ma va bene e come insomma dovremmo scegliere di fare quello che ci piace, quello che ci riesce meglio. Ti lascio la parola, vai Filomena Ho scelto il verde che ovviamente non funziona con questa luce, immagino, no? Si vede? Vabbè, allora proviamo a fare il meglio visto che... Ok. Dunque, appassionate è il mio lavoro, appassionate è il libro che ho scritto e appassionate è il brand che è nato e che sta crescendo intorno a questo nome vi racconto un attimo quello che è successo per arrivare a voi, spero, anche molto concretamente prima di appassionate, prima di un libro, prima di un logo c'era questo post-it ok, questo post-it quello che vi piace fare è ciò che sapete fare meglio prima di essere quella che ha scritto appassionate io lavoravo in televisione, ero un'autrice televisiva questo non faceva di me una persona felice il che non era colpa della televisione era fondamentalmente un momento della mia vita in cui probabilmente dovevo vivere quello che poi ho vissuto a seguito di questo post-it a un certo punto ho lasciato il mio lavoro dopo più di dieci anni e mi son detta voglio fare quello che mi piace ho preso il fatidico libro il sogno nel cassetto l'ho tirato fuori e per svariati mesi, più di dieci ho lavorato a quel libro subaffittando casa mia a degli stranieri di tutto il mondo per poter pagare l'affitto a Piazza Vittorio vivevo a Roma ho sempre vissuto a Roma fondamentalmente voilà vi lascio immaginare com'è andata ho scritto il libro l'ho mandato alle dieci migliori case editrici italiane solo tre mi hanno risposto per dirmi che malgrado tutto non andava bene a quel punto io mi sono ritrovata senza un sogno nel cassetto e senza uno stipendio la situazione era drammatica a tutti i livelli tant'è che ci ho messo un bel po' di tempo per elaborarla ci ho messo in circa due anni fondamentalmente sul mio divano facendo qualsiasi tipo di lavoro pur di pagare quella casa e rimirando questo fatidico post-it questo post-it un giorno mi alzo lo prendo in mano e dico parliamoci che mi vuoi dire ero io che avevo scritto il post-it ovviamente però chissà era stata un'intuizione geniale che non ero ancora in grado di sostenere probabilmente quindi ho fatto tante cose in quel periodo al di là degli aneddoti fare la babysitter per una hostess frustrata che partiva e mi lasciava il figlio per settimane intere oppure lavorare per il corriere della sera senza essere pagata quindi in qualche modo cercavo in qualche modo di riposizionarmi e un pochettino un pochettino alla volta cercavo profondamente di riflettere su questo concetto perché alla base è logico quello che ti piace fare è ciò che sai fare meglio sembra tanto logico però la prima cosa che chiunque ti dice sì vabbè però una volta che hai capito quello che ti piace poi come ci mangi finisce là la discussione finisce là non se ne esce e diventava difficile anche da sostenere per le persone che mi volevano bene o per i miei amici della serie vabbè mo ci hai provato però rimettiti a fare quello che facevi prima che funzionavi che potrebbe funzionare meglio quindi le vicende molto appassionate che hanno come dire che hanno nutrito questa riflessione fanno anche parte di questo libro ma il cuore del libro e il cuore del concept del brand sta in questo passaggio successivo parlando con un amico molto più colto di me mi ha spiegato a un certo punto avevo deciso di scrivere una raccolta di interviste una raccolta di profili di donne perché sebbene io in quel momento in quei lunghi anni mi stessi impegnando tantissimo e scrivessi i soggetti che erano molto funzionanti che la televisione mi prendeva però poi mi diceva di finanziare insomma per farla breve non si arrivava a quagliare e che a un certo punto io ho pensato addirittura di rivolgermi a delle donne perché pensavo che le donne al potere avessero avuto la possibilità di far cambiare le cose a fronte di progetti solidi parlando di questa cosa un amico mi ha spiegato il significato latino della parola potere poti seste poter essere se stesse poter essere se stesse si metteva assolutamente in linea con tutto quello sul quale stavo riflettendo in quel momento e mi sono anche detta che probabilmente sarebbe stato più interessante avrebbe potuto essere più interessante raccontare le donne che partendo da loro stesse erano riuscite a creare qualche cosa di economicamente riconoscibile quindi con un valore economico importante e che contemporaneamente soddisfacesse quelle che era la loro esigenza esistenziale chi sono io che sto facendo al mondo e se lo faccio chi ne ha bisogno quindi ecco qua che ho switchato completamente anziché fare una serie di ritratte di donne potenti ho deciso di fare una serie di ritratte di donne appassionate appassionata a quel punto cominciavo ad esserlo anche io perché a quel punto ero veramente determinata non c'avevo più una lira quindi non mi potevo neanche più lamentare avevo imparato a vivere senza soldi non so come ho fatto per alcuni anni tant'è che mi sono lanciata in un crowdfunding un piccolo crowdfunding che a me fondamentalmente mi ha svoltato quello che mi serviva il crowdfunding è stato anche un inizio per capire quante persone erano disposte perfettamente perfette e sconosciute erano addirittura disposte a darmi dei soldi per sostenere il progetto neanche per acquistare il libro proprio per dire falla questa cosa perché serve quello che è successo anche con appassionate è che tutte queste imprenditrici che voi vedete qua forse neanche le conosce probabilmente quasi nessuna conoscete però sono al di là che sono a capo di aziende che in tanti conoscete o che fanno cose veramente belle sono le persone con le quali io ho dialogato in questo viaggio dopo che mi sono finanziata ho iniziato a viaggiare avevo dieci imprenditrici da incontrare e a queste domande arrivavo con la domandina mia proprio in quel momento appunto ok ho capito quello che mi piace come faccio a camparci questa era la prima domanda che ho fatto alla prima imprenditrice lei Maria Fermanelli oppure alla seconda ho detto ok ok allora pazienza ho capito quello che mi piace ho capito come va fatto ma adesso che faccio che cosa posso fare e la seconda appunto domanda era la seconda risposta è stato prendersi cura delle idee scoprire come tutte queste persone che hanno questi foglietti sotto successo voce del verbo succedere mettere le gambe ai sogni raccontare il futuro padronanza di sé economia delle relazioni sono le persone cioè fondamentalmente il loro capitolo il titolo del capitolo corrisponde alla risposta che mi hanno dato e queste cose di fatto nel libro si racconta come io io una persona normale è evoluta è cresciuta seguendo l'esempio o semplicemente facendosi nutrire dall'esempio di persone che erano già passate per quello step e che con molta umanità rispondevano alle domande perché la questione sì è avere tante nozioni tecniche e preziosissime però queste nozioni tecniche vanno sempre costantemente e per tutta la vita sostenuti dalla motivazione personale la motivazione morale la motivazione di senso e queste imprenditrici che sono bravissime nei loro mestieri di fatto chiacchierando con me hanno recuperato quella che è stata la radice portante quella che è stata quella che era ancora la radice portante del loro percorso e che ancora faceva reggere la loro impresa perché è la radice che tiene l'impresa è la radice che motiva e aggiorna la motivazione allora ecco che appassionate è diventato il libro il libro che si trova online sta su Amazon che ho autoprodotto quindi io proprio vengo da genitore figlia di impiegati non ce l'ho proprio l'anima dell'imprenditrice quindi io stavo là stampavo cento copie ne vendevo cento ne stampo altre cento cioè non c'ho proprio i criteri di margine queste cose le ho imparate nel frattempo la cosa successiva è stata che da un progetto che era assolutamente personalissimo avrete capito quanto era vincolato alla mia esistenza economica perché io dovevo trovare il modo di far entrare dei soldi ma anche proprio esistenziale gli anni dopo la televisione per almeno un paio d'anni io a chi quando mi presentavo non sapevo cosa dire sono Filomena e due anni fa lavoravo in televisione cioè non sapevo dire chi ero ok avrò dei limiti però insomma è fortemente vincolante il lavoro per la nostra identità quando ci andiamo a presentare chi siamo cosa facciamo nella vita nel mondo che cosa facciamo quindi il lavoro non va sottovalutato o comunque per quanto mi riguarda l'investimento emotivo che sto facendo in questi anni e anche totale economico fisico e quant'altro è proprio quello di far coincidere l'identità del lavoro con l'identità di chi sono io e provare a raccontarlo nel mondo perché tanto a parità di fatica tutti i lavori si fa fatica a questo punto che sia che sia sensato fare una fatica che abbia appunto che nutra la nostra anima breve da un libro una risposta molto personale questo libro e i soldi delle vendite siamo passati ad una dimensione ho iniziato piano piano a passare ad una dimensione un po' più collettiva perché uno non sono capace due beh una cosa è fare le cose perché ne hai bisogno tu tanto e una cosa è farlo perché forse ne hanno bisogno anche altre persone questo è il mio sito ho aggiornato questi giorni sul sito ci sono altre cento di queste storie potentissime storie di appassionate appassionate che io continuo ad intervistare sulle mie spese perché sono io che intervisto io che seleziono io che scrivo io che faccio tutto quello che è l'editing del pezzo e poi c'è la fatica newsletter che io invio alle persone che vogliono essere insomma che decidono di iscriversi il valore di quello che sul quale mi sto premetto questo sito è stato creato pro bono da una società di un italiano che si chiama Kimbull e che è una B Corp perché in tutti e due sia loro loro più che me sposiamo l'idea del fare cose che abbiano profondamente senso umano il sito è gratuito ovviamente nel senso però là dentro per quanto mi riguarda c'è tantissimo valore c'è il valore economico di quello che faccio io e c'è anche il valore delle persone perché in tanti mi scrivono grazie per il sostegno grazie per l'idea grazie se lo può fare oggi mi hai svoltato la giornata eccetera eccetera questo sui vari social Instagram Facebook e il sito poi l'anno scorso proprio l'anno scorso è arrivata la casa editrice la casa editrice che mi ha proposto di scrivere un altro libro banalmente io ho detto guardate che appassionate è bello pubblichiamo appassionate loro mi hanno chiesto di scriverne un altro le lezioni che ho imparato scrivendo appassionate e questa è una presentazione a Milano al tempo delle donne ancora una volta tantissima gente perché quello che in maniera un po' naif probabilmente ma per la quale mi piacerebbe tanto avere il vostro aiuto io sostengo l'idea che il prodotto di appassionate è appassionate nel senso il prodotto è la scrittura delle storie il prodotto e il risultato è come dire l'ispirazione il sostegno l'incoraggiamento che questa cosa porta sia a coloro che leggono il libro o il blog o a tante persone che per vie traverse vengono a contatto con questa cosa io credo che se è vero che un'impresa funziona perché soddisfa un bisogno beh credo che il mondo ma quantomeno l'Italia ha profondamente bisogno di ispirazione di sostegno di sapere che si può fare dopo questo evento erano quasi 500 persone sono andata al bagno e fuori mi aspettava una persona una ragazza che che mi ha detto se puoi farlo tu posso farlo anch'io e un attimo riflettuto se era un insulto o meno e poi lei mi ha detto no no ma guarda è nel senso buono ho capito per dire che tutti gli altri parlano di Bill Gates parlano di quest'altro invece tu mi hai raccontato quanto con costanza e con continuità e con tra virgolette errori fatica voilà si vive comunque mentre subisci o vivi queste emozioni e contemporaneamente però nutri profondamente quello che quello che sei tu perché quello che ti piace fare non è un vizio di forma non è un qualcosa all'atere è la profonda essenza io dico sempre che il piacere è l'indizio del destino cioè cosa siamo chiamati a fare al mondo ecco quando vi vorrei raccontare un sacco di cose ma voglio mantenere il punto tutto intorno a noi ci racconta che manchiamo manchiamo di sufficienti risorse manchiamo di soldi manchiamo di lavoro manchiamo di formazione manchiamo di amore manchiamo di figli manchiamo ormai manchiamo di ossigeno e manchiamo di futuro tutto ci racconta che manchiamo che non siamo abbastanza appassionate che non sono piccole piccole cosettine qui dentro ci sono anche imprese che hanno 70 dipendenti che hanno fatturati di milioni quindi non stiamo parlando anche se ci sta pure domani ne presenterò una fantastica che è una stilista sarda che fa delle cose fantastiche con delle vabbè quello lo racconto dopo questo per dire che ricordiamoci che se ognuno di noi fa quello che gli piace ed è radicato in quello che gli piace che sia uno o sia uno più 69 già è una persona che ha risolto il punto ovvero lavorare e fare quello che gli piace quindi non dobbiamo ridimensionare il fatto che uno sia poco ecco fosse anche solamente uno alla volta noi è in quella direzione che credo che possiamo andare tutto questo ci racconta che appassionate diversamente da quello che ci raccontano tutti ci dice che siamo abbastanza e che non siamo abbastanza in relazione a tanto che siamo il tutto necessario perché noi con quello che sappiamo fare e che ci piace fare tendenzialmente siamo nati per fare ecco allora io l'obiettivo assolutamente naif voglio dire perché non darsene di ambiziosissimi è quello di voilà abbiamo bisogno di non abbiamo bisogno di competizione abbiamo bisogno di ispirazione se manca un prodotto al mondo è l'ispirazione poi vabbè ce ne stanno un sacco ma fateci caso che questi un sacco sono tanto tante volte deviati o finalizzati alla vendita io non voglio vendere coca cole io voglio vendere ispirazione e non la voglio vendere facendo i corsi io voglio semplicemente venderla raccontando che si può fare che lo fanno e che tu puoi già farlo con delle storie che sono assolutamente riconoscibili sono le storie della porta accanto sono le storie delle persone che che zitte zitte stanno comunque si stanno facendo la loro vita appassionata quello che mi piacerebbe fare avrei più dettagli ma ecco adesso qui non si vede però insomma vi facevo un attimo il sunto di quelle che sono in questo momento visto che siete di super professional ho detto fammi fare la professional in questo momento ci sono due prodotti a disposizione che sono il libro 1 e il libro 2 c'è un sito sul quale ci sono appunto più di 100 ritratti ci sono tre servizi perché in questo momento faccio degli atelier faccio c'è un TEDx c'è una pubblicità e ci sono quei 5.000 follower su facebook di cui vado particolarmente orgogliosa perché io non ho mai fatto una campagna in vita mia a pagamento per cui così come i 600 che mi seguono sulla newsletter mi pare di capire non ho mai fatto acquisti vari ecco quello che voglio fare io è avere come diceva poco fa Deborah ok la ragazza del delegare voglio mettere insieme un team pagato che possa esaltare i numeri di appassionate il valore di appassionate queste sono alcune delle persone che si sono vabbè qui esagerano si sono proprio licenziate dai loro posti si sono messi a fare le cose che gli piacciono ma ce ne sono altre invece che stanno in transizione che stanno utilizzando che stanno utilizzando questa fase di come dire questa crisi perenne nella quale dalla quale non si esce per dire vabbè a questo punto l'ultima è ieri una ragazza di Reggio Calabria che mi ha scritto una mail che avrei voluto leggermi però non sapevo dove mettermi il cellulare il valore umano di appassionate è indiscutibile per fare la differenza per influenzare in maniera esponenziale è il momento di far crescere il valore economico e per far crescere il valore economico di appassionate io voglio vendere un milione di copie di appassionate è un numero per dire tanto per dire che non voglio essere costretta ad immaginare nuovi prodotti ma voglio mettere a sistema quello che questo parola comunque voglio mettere in circolo quello che già c'è qui c'è una platea di talenti platea di talenti che sanno comunicare che sanno vendere e che sanno finanziare ecco io voglio creare un team di persone pagate che entrino in senso societario voglio dire questa roba vale adesso quindi il vostro valore vale allo stessa maniera per far sì che da qui in un anno centomila trecentomila cinquecentomila questa roba bisogna decidere che vale più della vendita ho visto un'intervista bellissima ad una persona che fa una cosa che mi ha affascinato tantissimo antropologia digitale voi la conoscerete e diceva delle cose geniali su come sa leggere i siti su come sa leggere i gruppi su come sa arrivare a estrapolare informazioni da quelle cose per poter vendere tappeti stuini perché a seconda di quello che è il suo cliente ecco io voglio poter pagare quella persona e dirgli mettiamoci a tavolino e vediamo come si fa a vendere un milione di copie di appassionate perché l'Italia ne ha bisogno e dobbiamo sapere che siamo molto più belli di quello che i giornali intorno a noi ci raccontano costantemente dobbiamo qui ce ne sono dieci una ha fallito però è fisiologico resta comunque una storia importante sul sito ce ne sono altre cento e io nella vita voglio scrivere voglio e visto che voglio anche delegare voglio mettere intorno a questo progetto le persone i talenti che sono in grado di farlo per voilà perché 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 c'ha molto senso e perché io ogni tanto me lo domando ecco questo è un consiglio così ogni tanto mi domando ma se io non se no io se nel mondo appassionate nel mondo da facita a qualcuno oppure se non ci fosse appassionate il mondo sarebbe meglio no appassionate ci può stare appassionate ci sta e ci può stare anche in maniera esponenziale il fatto che ci sia o no in maniera esponenziale dipenderà esclusivamente dai talenti che saprò mettere intorno a questo progetto che per ora ho fatto col sangue e che adesso invece andrà fatto con professionalità basta grazie 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 grazie